Signor Presidente, lei ha preannunciato la disponibilità ad accogliere i rilievi delle risoluzioni. No, le informo che lei deve accogliere i rilievi delle risoluzioni. Lei ha chiesto ai Presidenti delle Camere di trovare un luogo per il confronto con le opposizioni e il Parlamento. Guardi, le informo di una cosa, è questo il luogo del confronto, è il Parlamento. Lì ci sono i banchi del Governo, qua ci sono gli scranni degli eletti dal popolo e qui ci si confronta, ed è quello che stiamo facendo adesso che non è stato fatto finora, perché ogni volta ci sono sempre state delle informative e mai delle comunicazioni con una bella risoluzione. Lei ha detto, scusi nel suo intervento, che il diritto alla salute è preliminare su tutti gli altri diritti costituzionali. Ma scusi, ma come si permette lei di fare una scaletta dei diritti costituzionali? I diritti costituzionali sono tutti importanti alla stessa maniera e se per caso i numeri qualcosa contano, il diritto della tutela alla salute è al numero 32, il diritto al lavoro è al 4. e le ricordo l'uno, perché evidentemente si è dimenticato pure quello. L'uno dice che l'Italia è una repubblica democratica, quindi si decide tutti assieme, non decide lei, fondata sul lavoro, quindi non fondata sulla salute o di PCM e la sovranità appartiene al popolo che si esprime per i suoi rappresentanti che qua sono. Quindi vediamo di riportare le cose in un ordine costituzionale, perché il momento è grave. Per questo diritto al lavoro vediamo di capire perché non è possibile lasciare semplicemente alle regioni, alle opposizioni o a qualsiasi altra istituzione con cui lei vuole intestarsi eventuali futuri disastri. Questa decisione di poter prendere e fare cose per contrastare il virus o qualsiasi altra iniziativa grave. Perché l'aspetto economico è fondamentale, perché se io prendo in vesto un presidente di regione della responsabilità di contrastare il virus, lui magari può anche dire chiudo tutto, ma se non ha in mano le risorse per poter risarcire o per poter tutelare i lavoratori della sua regione che stanno andando in rovina, come potrà avere un quadro completo della situazione? Allora date anche le regioni i soldi perché è un po' comodo dire tu presidente di regione chiudi tutto e io poi passo a fare Babbo Natale con i ristori. Ebbè è un sistema comodo ma non va bene così. Non va bene. Non è un rapporto governo-regioni-opposizione. Qui ci vogliono delle cifre che sono incredibilmente superiori a quelle che voi al momento avete stabilito col decreto ristori. Perché il decreto ristori, stiamo parlando di 5 miliardi, è esattamente la stessa sciocchezza fatta da quell'inadeguato del suo presidente, del suo ministro dell'economia. All'inizio, quando ha detto 3,6 miliardi per gestire la pandemia, poi ce ne sono voluti 100. Quindi 5 miliardi presi oltretutto sottraendo risorse ad altre categorie a cui erano state promesse e che non le avranno, non è nemmeno l'inizio di quello che ci vuole per indenizzare la gente. La gente è per strada perché è disperata, non perché ha voglia di farsi le passeggiate. Quindi, le dico proprio brevissimamente, le suggerisco come fare per riportare tutto nell'alveo costituzionale per coinvolgere veramente il Parlamento. Facciamo che il Comitato Tecnico Scientifico informa in tempo reale le commissioni sanità del Parlamento, subito, perché fino a ieri voi avete votato ancora per secretarle, dico voi della maggioranza. Invece, subito il Parlamento deve essere informato di tutto, subito, in tempo reale. Dopodiché, lei la smette con i dpcm. Questo strumento assurdo con cui lei si è arrogata la sovranità totale, adesso vuole demandare perché pensava di farsi la statua, pensava di essere l'eroe salvatore, adesso che le cose non stanno andando come pensava, ecco che cerca la collaborazione, cerca la condivisione. Quindi lei la smette con i dpcm, forse la salviamo anche da questo lato. Viene qua ogni settimana, si prende una bella risoluzione esattamente come quella di oggi, dove ci sarà una responsabilità politica, ci sarà una maggioranza che vota a favore, una minoranza che magari vota a favore anche lei ma magari vota contro e a quel punto i rappresentanti dei cittadini avranno la responsabilità, concludo Presidente, avranno la responsabilità politica delle decisioni. Quindi venga qua, si prenda ogni settimana la risoluzione e poi faccia un bel decreto, legge, se c'è bisogno. Così facendo poi gestiamo le questioni in Parlamento. Questa è la normale, normale procedura costituzionale, non c'è lo stato d'emergenza, il tavolo, sono tutte cose che nella Costituzione non esistano e si ricordi che il diritto al lavoro è fondamentale. Lei non può trattare con faciloneria la vita delle persone che stanno venendo rovinate.